Un'ora e mezza di faccia a faccia per fare il punto sulla situazione allarmante a Gravina in Puglia. All'ordine del giorno del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica con il Vice Ministro dell'Interno Filippo Bubico, due gravi fatti di cronaca. Il primo, l'omicidio Capone, paladino della legalità, e l'altro, i due proiettili 765 inviati per posta al Sindaco Alessio Valente. Lo Stato c'è, ha ribadito il Vice Ministro Bubico, Gravina è nel mirino di chi cerca di piegare la democrazia e la vita amministrativa alla logica della violenza. Un disegno al quale lo Stato e le sue articolazioni, ha aggiunto Bubico, si opporranno con ogni mezzo, se necessario, anche con più risorse investigative. All'incontro, naturalmente, c'era anche il Sindaco della città murgiana Valente. Non mi sento nel mirino, sono sereno e tiro dritto per la mia strada, che è quella del rispetto della legge e della trasparenza. Nei giorni scorsi abbiamo annunciato l'imminente apertura dell'associazione anti-racket, ha spiegato il primo cittadino. Un altro segno per radicare sempre più nel tessuto sociale la cultura della legalità. Sin dalla mia lezione, ho detto ancora, ho preso l'impegno di unire Gravina. Ho sempre detto che da me non c'era da aspettarsi solo un lampione in più o una buca in meno. Il cambiamento reale, il cambiamento, la rivoluzione culturale. Degli aspetti investigativi legati all'omicidio di Pietro Capone e dell'intimidazione al primo cittadino, ha parlato il procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Pasquale Drago. Al momento sembrerebbe che nei recenti episodi di cronaca accaduti in città non ci sia la mano della criminalità organizzata. C'è una situazione politica ed amministrativa di tensione, ha detto, che è la politica dove risolvere. L'impressione è che si sia passato il limite sconfinando nell'area di interesse penale. Magistratura, Prefettura e Forze dell'Ordine sono molto allarmate da questo clima.